Oggi presentiamo un cortometraggio totalmente prodotto da Garofalo, in cui Garofalo non c'è in realtà, non è una parte rilevante del cortometraggio, quindi non è assolutamente uno spot grande, ma semplicemente un cortometraggio totalmente prodotto, con un'idea che è nata in realtà nel 2005, di un percorso nel cinema, dove l'obiettivo di Garofalo è quello di trovare i sistemi di comunicazione che sentiamo vicini a noi, nel nostro modo di intendere il nostro lavoro e il nostro prodotto. In questo senso non ci piaceva l'idea di autoreferenziarci attraverso una campagna pubblicitaria classica, ma cercavamo un sistema in cui Garofalo fosse raccontato e fosse raccontato il suo gusto, il suo senso di gusto in maniera diversa, per cui abbiamo iniziato nel 2005 con il Product Placement, siamo stati la prima azienda italiana a effettuare un progetto strategico sul Product Placement, facendo 10 film, dopodiché ci abbiamo preso il gusto un pochino, in parte non eravamo più soli, chiaramente in quella strada, e credevamo comunque di dover andare avanti, per cui già nel 2008 abbiamo prodotto un coprodotto con Fox, un primo cortometraggio con Alessandro Preziosi, che si chiamava L'Archimia del gusto, in cui la parte di comunicazione in realtà sono i trailer che venivano mandati sulle reti Fox, perché il cortometraggio era prodotto con Fox nella parte di Fox Crime, era un noir infatti, che raccontavano l'esistenza di questo cortometraggio, il fatto che Garofalo, piuttosto che interrompere un'emozione in cui diceva, compra Garofalo perché è buona, cercava di crearla nel suo piccolo. Ancora una volta abbiamo preso gusto ancora di più a questo progetto, per cui abbiamo cercato di farlo da solo, abbiamo scelto un regista che ci sembrava potesse raccontare in maniera originale il nostro senso del gusto, perché è un regista che ha la capacità di essere leggero senza svilire il progetto con intelligenza e questo ci era piaciuto molto, per cui abbiamo costruito questo cortometraggio e ancora una volta una campagna che questa volta è su due binari, sia sulle reti di tutto quanto la piattaforma Sky, quindi da Fox a Sky Cinema, sia all'interno dei cinema dove per due settimane saremo presenti in oltre mille schermi con circa 64.000 spot in cui racconteremo il trailer.